benvenuti benvenuti al nostro alla nostra seconda puntata del ciclo di webinar dedicati al di mila di 6050 un andiamo il nostro benvenuto ai nostri due ospiti emidio frattaroli direttore di av magazine ciao emidio mi vedi ciao perfetto e fulvio cecconi di gruppo garman direttamente da roma ragazzi ci sentiamo attendiamo ancora qualche secondo e qualche che i vari partecipanti possano accedere al webinar nel frattempo vi do alcune indicazioni per coloro che partecipano per la prima volta i nostri webinar vi ricordo che il vostro microfono è silenziato quindi non potete parlare con noi ma potete comunque interagire tramite il question panel c'è un'icona a forma di nuvola a destra vi si aprirà una casella di testo e potete inoltrarci le vostre domande a cui daremo risposta nella daremo una risposta nella sezione risposte alla fine del webinar inoltre vi ricordo che al termine del webinar non chiudete la finestra perché verrete indirizzati al nostro sondaggio e vi chiediamo un minuto del vostro tempo per rispondere a qualche domanda io direi che a questo punto possiamo iniziare e partiamo direttamente condivido io lo schermo e partiamo direttamente dalle domande che abbiamo lasciato indietro dalla puntata scorsa ok emilio ok perfetto sì allora vedete il mio schermo giusto sì sì ok perfetto allora ricordiamo un attimo prima la i prezzi dei prodotti visti lo schermo lr prezzo di listino 1500 euro i nostri v6000 v6050 in colorazione ice black ice gray in colorazione matte black da 3999 si è presi in bundle il prezzo scende lo schermo lr scende a 1000 euro fino al 31 12 di quest'anno lo schermo ve lo regala ben chiù quindi vi invito a recarvi presso i nostri partner per usufruire di questa promozione allora partiamo dalle domande che sono rimasti indietro dalla prima puntata e sono specifiche della sugli schermi alr allora prima cosa per chi si è perso la prima puntata la potete rivedere cliccando sul video link oppure andando scannerizzando direttamente il qr code che trovate qui di fianco ok poi immagino che alcuni di voi abbiano già partecipato alla prima puntata avete visto che vi ricevete una una mail con all'interno link per riguardarla allora partendo la prima domanda la struttura microspecchi può inficiare la risoluzione sono previsti schermi e proiettori ad ottico ultracorta 8k emilio vuoi rispondere tu o per quanto riguarda ben chiù magari lasciamo rispondere fulvio sulla struttura ma anche ma no vai vai emilio divertiti tu soprattutto sugli 8k ero molto curioso la struttura la struttura microscopica dello schermo alr specifico per i proiettori ost abbiamo visto sabato scorso che è una forma particolare che prevede una parte inferiore che riflette la luce che arriva con un angolo di incidenza molto elevato e invece la parte superiore che assorbe la luce che arriva prevalentemente dal soffitto comunque la luce ambiente ebbene la forma è lenticolare ci sono delle lenti orizzontali molto piccole che attraversano lo schermo per tutto il senso orizzontale bene potrebbe esserci qualche problema ma al momento la densità è così elevata che non abbiamo visto nessun tipo di problema di more o di perdita di risoluzione rispetto a uno schermo tradizionale questo per quanto riguarda i proiettori a risoluzione nativa 4k problemi potrebbero esserci per i proiettori nativi 8k se e quando questi arriveranno sul mercato d'altra parte anche è possibile che schermi del genere possano avere lenti strutture ancora più piccole per per evitare questo tipo di problemi ci saranno proiettori 8k a tiro ultracorto perché no io so che insomma 8k andrà sempre avanti marketing non si ferma e quindi molto probabilmente qualche cosa uscirà nel giro di prossimo lustro ma diciamo se hai detto bene prossimo lustro prossimo lustro sì perché ma a parte la situazione attuale diciamo i proiettori 4k a tiro ultracorto sono appena arrivati sul mercato ritengo davvero improbabile che ci sia breve un proiettore a risoluzione 8k ust che arriva breve praticamente non ci sono proiettori 8k neanche di tipo tradizionale per fare un esempio tra i proiettori più costosi che ci sono sul mercato parlo dei proiettori da vicini ai 100 mila euro sono comunque risoluzione 4k o nel caso del proiettore gvc nx 9 è comunque un nativo 4k con volbulazione 2d ma che comunque non accetta segnali a risoluzione nativo 8k andiamo alla seconda domanda quanto può beneficiare una batcave con un videoproiettore dlp da uno schermo alr quale tipologia è più adatta è più adatta in questo caso allora dunque in linea di massima la batcave a meno che non abbiate pitturato le pareti con quelle vernici con i nanotubi di carbonio comunque rifletterà sempre qualcosina quindi uno schermo alr in genere può dare comunque qualche vantaggio nello specifico però può dare qualche vantaggio con proiettori che abbiano un rapporto di contrasto nativo molto elevato e non è per il momento il caso dei proiettori dlp in generale neanche delle cd sono solo alcuni pochissimi proiettori che hanno un rapporto di contrasto dell'ordine nativo dell'ordine dei 20.000 30.000 per quanto riguarda invece l'utilizzo del lo schermo lr specifico per i proiettori ust ha senso molto senso come utilizzo in ambienti illuminati quindi la risposta è intualmente marginale sentiamo invece come pensi no dicevo una percentuale per quanto riguarda una batcaverna come l'abbiamo chiamata quanto può comunque migliorarlo secondo te un 10 per cento perché a me dà l'idea che gli alr aumentino comunque e di molto la profondità dell'immagine a prescindere cioè molti clienti oggi venuti qui in negozio avevano quasi la sensazione che fosse un televisore questo è un po più rispetto a sì certo esatto più di una proiezione che poi abbiamo fatto nell'altra saletta normale che comunque si vedeva benissimo però effettivamente c'è quella sorta di profondità di immagine che dà l'idea appunto della televisione non so se è una cosa che hai riscontrato anche tu allora il fatto che aumentino il rapporto di contrasto che il livello del nero cioè i primissimi livelli siano più bassi il nostro occhio più sensibile sulle basse luci questo è chiaro che c'è un vantaggio innegabile il discorso sarebbe molto più ampio di così perché dovremmo fare una prova tra due proiettori con un diaframma magari uno su uno schermo normale ma in modo da avere la stessa luminanza quindi magari limitando un po il flusso luminoso e dall'altro lato side by side lo stesso proiettore col flusso luminoso adeguato in modo da avere su quello schermo lr lo stesso livello di luminanza però sì è chiaro lo schermo lr ha comunque ripeto vantaggio e anche in una batcave stanza nera il controllo delle riflessioni e comunque arriva fino a un certo punto ma invece su una lr tradizionale cioè lr tradizionale certo no no dice una lr per proiettori in una ottica oltra corta divaghiamo dieci secondi come fanno poi a fare in maniera che la luce non non disturbi l'immagine visto che poi l'angolo di incidenza dell'immagine è lo stesso delle luci delle finestre potenziali che stanno alla stessa allora è proprio quello il problema ovvero lo schermo lr tradizionale tra virgolette cioè non quello lenticolare specifico di proiettori ost riflette meglio la luce che arriva perfettamente perpendicolare sulla superficie dello schermo man mano che l'angolo aumenta riflettono meno è chiaro che se c'è una finestra dietro cioè dove dovrebbe stare il proiettore non ha senso non funzionerebbe assolutamente uno schermo del genere quindi funziona di più quando per esempio la luce arriva dall'alto con un angolo di incidenza elevatissimo ci sono delle installazioni molto belle in cui le luci sono magari incassate sul soffitto non troppo vicino ma vicini al proiettore e cioè se andate su avi magazine e cercate sul nostro motore di ricerca supernova ok arriverete a una recensione mettete ovviamente articoli titoli eccetera una delle prime recensioni di schermi lr di forse 15 anni fa 14 18 anni fa uno schermo della dnp dai nippon company che ha inventato tra virgolette lo schermo lr e lì c'è proprio a casa mia l'installazione con lampadario proprio sopra lo schermo e con prestazioni incredibili è chiaro che rivedo se l'ampadario è basso lontano e l'angolo la luce che arriva sullo schermo è piccola non ha molto senso quindi la lr paradossalmente nei proiettori ottica ultracorta un grosso vantaggio cioè enorme assolutamente sì rispetto a queste situazioni certo perfetto 1 a 0 per gli ultracorti questo l'abbiamo detto nel sabato scorso nella puntata proprio dedicata agli schermi lr specifici per i produttori ust e quindi è questo proprio la la sinergia perfetta tra l'ottica tiro cortissimo e questo tipo di tecnologia di schermi lr perfetto la terza domanda è come si monta e come viene fissato lo schermo lr al muro in questo caso prima di dire come viene fissato facciamo vedere un video che mostra un po il montaggio di questi schermi vi ricordo di attivare il microfono disattivare attivare attivare attenzione che si allora allora vediamo il contenuto che è all'interno della scatola come queste sono delle fasce emilio se vuoi commentarlo tu dato che commento la scelta perché in realtà non vedo nulla però siccome è un filmato che conosco non ti preoccupare lo posso commentare diciamo che allora lo schermo ne abbiamo parlato anche su av magazine alla struttura di alluminio della cornice e robustissima leggerissima fatta con estrema precisione e il montaggio è molto semplice ci sono le istruzioni cartacee c'è il video su youtube ed è veramente un gioco da ragazzi montare la cornice veramente tagliato alla perfezione le viti entrano la perfezione quindi è semplicissimo l'operazione più delicata è quella di togliere di srotolare lo schermo da una struttura lo schermo effettivamente è delicato quindi bisogna fare attenzione a non fare non bisogna piegarlo in questo cioè non bisogna creare questo tipo di angoli non so se si vedono abbastanza bene perché si rovinerebbe la struttura quindi bisogna fare attenzione a srotolare magari su una superficie piana e pulita quindi non sul pavimento sporco anche perché va srotolato con la faccia utile cioè la faccia dove viene proiettato sul pavimento quindi tappeto quello che sia a quel punto non so a che punto arriva dal video stanno facendo vedere proprio questo cioè stanno facendo vedere come il telo sia stato srotolato con la faccia rivolta verso il basso su un tappeto come vedete sono sempre due persone che lo montano per evitare l'attenzione da un'altra da una parte o dall'altra e poi alla fine vengono montati i profili allora aggiungo solo un'informazione la il telaio la cornice va centrata ci sono dei riferimenti quindi c'è un po di schermo che esce dai quattro lati poi valo lo schermo va ripiegato viene agganciato con con delle mollette ci sono gli attrezzi per agganciare le mollette vengono in serie di profili cioè è veramente un'operazione molto semplice va seguito uno schema per agganciare le mollette in modo cioè non partire seguazionalmente per fare che sono gli angoli opposti prima sui lati maggiori con i lati inferiori ma insomma è operazione veramente molto semplice dal mio punto di vista anche perché diciamo anche voi a milano di montarlo quindi voglio dire sì noi l'abbiamo montato appena finito il tour appena tornato dal gruppo garman ci siamo messi a montare ci abbiamo impiegato circa due ore per montarlo come viene fissato invece al muro ci sono delle staff e delle guide giusto dietro al ovviamente allora innanzitutto lo schermo pesa è leggerissimo perché la struttura ed alluminio leggera e abbastanza sottile quanto peserà cinquattro chili cinque chili adesso non so con precisione però veramente peso e ridicolo quindi bastano due tasselli da anche da sei da sei millimetri con la vita è un po più lunga ci sono anche le staffe noi per esempio non abbiamo usato neanche le staffe ce l'abbiamo proprio appeso lasciando la vite la testa della vita è fuori di circa cinque millimetri e l'abbiamo agganciato a queste due viti ovviamente in bolla per carità però voglio dire è come appendere un quadro con due viti non è molto difficile poi ci sono le staffe si vuole fare una cosa ancora più precisa io l'ho trovato estremamente semplice la cosa importante e l'altezza cioè quale altezza agganciare lo schermo perché vi ricordo che il proiettore a tiro corto ha un offset ben preciso e non c'è lens shift che vi consente di correggere si potete ci sono i piedini che hanno un margine di circa un centimetro non di più però ecco fate molta attenzione all'offset dello schermo quindi del proiettore dello schermo quindi il consiglio di mettere installare il proiettore e poi tanto la base è quella e poi insomma avere per avere un riferimento in modo da capire dove agganciare a che altezza agganciare fare i bug e poi c'è lo schermo mi sembra 42 centimetri dal piano se non ricordo male esattamente sono 25,2 più i 15,7 del proiettore dell'altezza del proiettore quindi esattamente 25 25,7 più 15, comunque questa è un'operazione 40,9 40,9 centimetri dal piano d'appoggio quindi ok poi insomma lo faremo vedere questo è il 100 pollici farà parte del prossimo webinar e soprattutto anche dell'ultimo relativo alla calibrazione faremo vedere anche come gestire per esempio eventuali problemi di distorsioni trapezio eccetera 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 invece l'ultima domanda la faccia a fulvio l'installazione del telo può essere effettuata dal consumatore oppure l'installazione necessita obbligatoriamente di un tecnico qualificato? No come diceva Emilio potenzialmente è semplice ma siccome un errore potrebbe costare tanti soldi noi diamo sempre il consiglio di affidarsi a un installatore ma non solo per il telo io parlo in generale per l'installazione globale per il posizionamento corretto i consigli che vengono dati molta gente nel mondo dei televisori compra il televisore OLED ultimo modello finissimo e poi dopo lo lascia esattamente così come l'ha tirato fuori dalla scatola senza farselo tarare o preparare in modalità negozio magari in modalità negozio esatto modalità rivendita e tutto quanto quindi il consiglio è quando si spendono comunque determinate cifre sarebbe inutile lesinare sul fatto di poterlo poi sfruttare per le potenzialità che hanno questi prodotti che sono notevoli insomma questo è il mio parere poco di parte poco poco e facciamo ho un'ultima domanda prima di iniziare il webinar c'è uno che ha scritto c'è un partecipante che ha scritto esistono le staffe per collocare il cento pollici al soffitto cioè il cento pollici presumo che intenda lo schermo è sì allora diciamo una cosa vuoi rispondere tu posso rispondere io rispondi rispondi pure allora ovvero non esistono delle staffe tipo delle barre che dal soffitto scendono no però insomma è molto semplice perché è possibile utilizzare le due staffe che vengono date in bundle con lo schermo per per esempio agganciare dei fili non d'acciaio e ripeto lo schermo è leggerissimo sono credo 5 kg ma devo verificare poi verificheremo però insomma anche con dei cavi di nylon è possibile tenerlo sospeso però il rischio in quel caso è che ovviamente si muova se anche perché con un telo normale anche l'ondeggiamento minimo non si nota abbiamo visto in saletta spesso anche se il telo ondeggia poco poco non si nota sull'immagine con un telo con un proiettore ust abbiamo visto che qualsiasi minima reazione esatto quindi quello installarlo a parete a meno che non appenda delle staffe fisiche di metallo che scendono giù rigide insomma quello è però anche lì il rischio che con una vela così grande possa minimamente muoversi sui ust si nota tutto cioè qualsiasi minima cosa sulle pareti sulle cose diciamo il movimento di pochi millimetri si traduce in distorsioni geometriche di qualche centimetro quindi non glielo consiglierei insomma poi dopo d'accordo però è fattibile d'accordissimo anch'io allora prima di iniziare il webinar facciamo vedere il video invece della del negozio di di fulvio sì perché non mettiamo anche che diciamo il webinar questo webinar in quattro puntate era pensato organizzato per essere fatto proprio come un roadshow all'interno dei punti vendita partner selezionati da ben chiù e quindi noi sabato saremmo dovuti essere a roma all'interno del punto vendita di gruppo garman a roma in vabbio ezio però qualche settimana prima ero lì per tra le altre cose per fare dei test proprio sui proiettori ust e quindi ho approfittato per girare un video poi fulvio ci ha dato anche del materiale abbiamo confezionato questo brevissimo video che magari possiamo lanciare commentare allora lo lancio ricordatevi di attivare il microfono ok allora fulvio qua tocca a te perché ripeto io non vedo mi ricordo questo è il nostro negozio sì piano terra via boezio spazio bellissimo grazie grazie caro emidio beh siamo in via boezio via cola di rienzi quindi roma prati quasi centro a pochi metri da papa francesco che salutiamo ogni mattina e anche dalla fermata della metro lepanto molto vicino e da piazza del popolo teatro di varie manifestazioni ultimamente e niente qui vabbè oltre all'inquinamento dovuto alle varie stampanti che sono il mio la mia storia poi negli ultimi dieci dodici anni abbiamo approcciato il mercato dell'audio video e che ora sta diventando predominante con il mondo della videoproiezione principalmente ma quello anche dell'integrazione negli ultimi negli ultimi tre quattro anni abbiamo creato vari ambienti c'è una sala chiamiamola audio video o living se vogliamo dire che ripropone una specie di salottino come potrebbe essere in casa dei nostri clienti eh quindi col televisore eh schermo proiettore ottica ultracorta o anche proiettori tradizionali e sistemi audio da poter ascoltare all'interno di questo piccolo salone di questa piccola sala poi eh abbiamo un'altra sala che è la vera e propria sala cinema con un pianto dolby atmos eh a undici punto due canali e solo proiettori però lì eh beh sì anche se tu me lo insegni anche con cicogni abbiamo fatto degli eventi anche audio per ascoltare la musica multicanale certo certo ma non ci sono televisori voglio dire lì è solo videoproiezione hai anche due schermi eh eh videoproiezione doppio schermo schermo multiformato eh sistema audio che volta in volta cambia saletta che è una bug cave questa diciamolo molto bene e che spesso viene utilizzata anche da noi per fare dei test su dei prodotti e fuvio ci mette a disposizione la sua bellissima saletta che invitiamo a visitare anche perché ha uno schermo di dimensioni umane tra virgolette sono due metri e sessanta due metri e settanta se non sbaglio esattamente questo è santo non è il momento e quindi diciamo che con lui riusciamo ad avere livelli di luminanza stratosferici ben oltre alle cento candele su un metro quadrato quindi diciamo che vedere da lui dei contenuti in hdr è veramente molto divertente e gustoso sì la lr l'abbiamo chiaramente sfruttato per la saletta audio video quella accanto che abbiamo visto prima permette di 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 fare il confronto luce accese e luci spette questa è la sala adesso che stiamo allestendo eh chiamiamo la sala riunioni ma dove ci piace eh utilizzare anche qui ottica ultracorta per proiettare sulle pareti e far vedere ai clienti che lo chiedono anche la 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 resa su una parete eh tradizionale chiamiamola tradizionale e fare degli esperimenti insomma ci è capitato anche di di utilizzare i prodotti eh a ottica ultracorta in situazioni diverse dalla dall'ambiente domestico come delle spa che hanno voluto eh incastonare nel soffitto il il videoproiettore per poter creare una parete che il cliente non capiva da dove veniva illuminata insomma quindi ambienti ambientazioni particolari eh senza l'ombra di nessun eh utente che potesse impallare l'immagine della videoproiezione quindi anche questo è un altro eh plus del degli UST. Tra l'altro la sala eh dove abbiamo fatto la nostra visita con Emilio durante a settembre. esatto quando Emilio mi regalerà il famoso schermo srotolabile così però questa sala per fare proprio le demo in maniera fissa perché è veramente eh beh è veramente interessante poter fare il confronto immediato fra parete e scherma LR con uno schermo fisso sarebbe un problema elevalo e rimettilo non è non è proprio il massimo invece con lo schermo srotolabile da terra vabbè gliene ho ordinato uno ma non me lo vuole dare perché dice che non lo posso permettere vabbè allora no dicevo poi il resto del negozio chiaramente al di là degli uffici amministrativi e della camera della stanza del boss a due magazzini dove teniamo le migliaia e migliaia di proiettori che vendiamo no vabbè i vari proiettori che vengono. Voi siete ancora aperti giusto? Dato che non siete in zona rossa ricevete clienti e siete aperti tutta la settimana giusto? Sì sì chiaramente nel massimo rispetto di tutte le varie normative non entra più di una persona o congiunto quindi marito e moglie che litigano spesso nelle nostre salette però sì eh siamo aperti quindi i clienti hanno tutto il tempo necessario per poter provare i prodotti vederli avendone poi eh tre anzi quattro di ambienti compreso quello giù al piano di sotto c'è la possibilità di ricevere più persone e a rotazione poi con il vario personale di di seguirli nelle loro richiede. Sì aggiungo che il punto vendita Garman diciamo che è partito prima dell'audio video con la videoproiezione che ricordiamolo insomma Fulvio che eh ti occupi di videoproiezione già da molto tempo e uno dei pochissimi punti vendita a livello nazionale che ha una scelta molto ampia soprattutto sui proiettori OST cioè lì da da dal gruppo Garman è possibile vedere in funzione numerosi modelli OST di marchi diversi anche tecnologie differenti che insomma vedremo in modo tale da apprezzare la qualità del BenQ certo aggiunto chiaramente te l'era tenuta per ultima questa frase esatto prima di iniziare il nostro webinar sui video proiettori d'ottica ultracorta direi di giocarci subito il sondaggio ai nostri partecipanti giusto Emilio? Ok certo per capire cosa cosa pensate e cosa ok perfetto Davide se vuoi lanciare il primo pool in modo tale da andare a vedere vogliamo infatti chiedere con ottica tradizionale cioè con ottica tradizionale ovvero con ottica tiro medio o tiro lungo e direi che per esempio offrono un vantaggio per la gestione dei cavi di segnale di alimentazione che ovviamente il proiettore che sta dalla parte opposta rispetto a dove sta lo schermo ha dei problemi per passaggio di cavi eccetera se è più semplice o meno installare un proiettore VST rispetto a uno tradizionale l'integrazione con l'ambiente oppure la bassa luminosità questo la bassa luminosità si spiega più che altro con la posizione perché spesso il rapporto di tiro dei proiettori tradizionali è tale per cui si trovi molto spesso vicino allo spettatore addirittura sopra la testa invece in questo caso il proiettore VST è praticamente a ridosso dello schermo e quindi si trova anche a tre metri dallo spettatore avevamo un pari merito no ancora stiamo attendendo le nostre risposte aspettiamo ancora qualche secondo perché sappiamo che c'è un po' di lag tra il tempo in cui attiviamo il sondaggio e le risposte dei nostri partecipanti direi che possiamo chiuderlo ora aspetta un cinque secondi ok dai chiudi chiudi vabbè vabbè diciamo che direi che possiamo dire immaginare quindi la maggior parte è d'accordo com'è con l'integrazione che è più più elegante sicuramente e anche la semplicità di installazione certo cioè è stato un testa a testa con facilità di installazione per i primi nei primi secondi diciamo poi dopo ha vinto alla sta grande integrazione elegante appunto minimale con l'ambiente nessuno ha nominato la bassa rumorosità e questo è ovviamente come dire abbastanza caratteristico dei proiettori ultracorta io direi che possiamo chiudere possiamo nascondere il pool e direi di lasciare a questo punto la parola ad Emilio ti do le autorizzazioni come presentatore un attimo solo allora adesso dovresti poter presentare io e Fio ci scolleghiamo così lasciamo la ok dimmi se vedete datemi una conferma se vedi lo schermo si si vediamo completamente lo schermo perfetto aspetta un attimo 4Z allora ripartiamo con la nostra seconda puntata vi ricordo che questo webinar è articolato su quattro appuntamenti ogni sabato tutti i sabati di questo mese di novembre il sabato scorso eravamo virtualmente a Bologna ad Audio Quality ci siamo occupati di schermi ALR e potete rivedere il webinar seguendo il link su YouTube che pubblicheremo anche su AV Magazine lunedì oggi ci occupiamo in generale di video proiettori a tiro ultracorto sabato prossimo saremo virtualmente a Milano sempre da Audio Quality per fare un approfondimento sui proiettori BenQ V6000 e V600050 e infine l'ultimo sabato di novembre saremo qui vicino speriamo fisicamente da Hi-Fi di Prinzio a Chi di Scalo invece per occuparci della calibrazione del BenQ V6000 e V600050 allora il webinar di oggi è specifico per i proiettori UST e questo prevede qualche premessa sulla sintesi additiva per poter parlare poi delle principali tecnologie di video preazione dei sistemi di illuminamento e poi andare invece sul rapporto di tiro sui tipi di proiettori soprattutto che offre in questo momento il mercato perché parlo di sintesi additiva? perché è bene sapere come funziona la percezione dei colori vi ricordo che abbiamo due classi principali di cellule sensoriari che sono i coni e i bastoncelli i bastoncelli sono utilizzati principalmente per la visione cosiddetta scotopica quando c'è pochissima luce non sono sensibili al colore per la grande maggioranza del tempo utilizziamo i coni che sono suddivisi in tre classi principali che hanno queste curve di sensibilità c'è una classe di coni sensibili al blu un'altra classe di coni sensibili al verde e un'ulteriore classe di coni sensibili al rosso ma un pochino anche al blu ebbene sfruttando questa sensibilità differente per le tre classi di cellule sensoriari aggiungendo il rosso, il verde e il blu è possibile vedere tutti i colori all'interno di un triangolo che poi è il triangolo di gamut che pubblichiamo spesso che ci indica la capacità di produrre i colori di un proiettore o di un display ebbene per questo motivo i proiettori utilizzano sistemi di illuminamento differenti per arrivare a un obiettivo ben preciso ovvero massima efficienza luminosa e massime dimensioni del gamut raggiungibili il sistema di illuminamento che possiamo trovare sul videoproiettore non solo UST ma di tipo tradizionale è di solito di 4-5 tipi quello tradizionale per eccellenza è con la lampada lampada a scarica non è una lampada con un filamento è una lampada con un arco che viene creato all'interno di un ambiente ricco di gas particolari quindi lampada a scarica ad alta pressione di solito il mercurio oppure ci sono anche proiettori con LED di solito non molto luminosi LED puri più recentemente esistono dei proiettori LED in cui il LED verde in realtà è un mix di LED blu più fosfori verdi poi esistono proiettori a laser ma attenzione qui con molte varianti quella più comune anche nei proiettori UST è la variante ibrida con laser blu e fosfori per gli altri due colori rosso blu ovvero fosfori gialli oppure fosfori suddivisi rossi e verdi e poi ci sono i proiettori laser puri tra virgolette o anche qui un mix tra laser e fosfori ovvero proiettori laser con magari più laser non solo blu ma anche rosso o addirittura anche verde e anche qui con mix di fosfori l'altro elemento importante è la tecnologia dei micro display ovvero la tecnologia di visualizzazione delle immagini che vedremo tra poco e poi l'obiettivo importante la differenza tra i vari sistemi di illuminamento prima di tutto per quanto riguarda la durata e la stabilità vi ricordo che le lampade a scarica hanno una durata compresa più o meno tra le mille e le tremila ore alla massima potenza questo vuol dire che dopo mille o tremila ore il flusso luminoso che rimane è di circa il 50% quindi se un proiettore dichiara per esempio mille lumen vuol dire che dopo un periodo di tempo che viene dichiarato nelle garanze statistiche tecniche quindi mille, duemila, tremila ore e il flusso luminoso rimane del 50% in modalità eco dipende dal tipo di modalità eco della lampada può anche raddoppiare questo tempo i led hanno una durata tra le 20.000 e 50.000 ore anche di più ovviamente per 20.000 ore si intendono i led ibridi con led e punto fosfori per il verde anche qui gli ibridi sistema di illuminamento ibrido con laser e fosfori anche qui 20.000 ore ed è il punto debole in questo caso il fosforo tra virgolette punto debole comunque 20.000 ore sono tante anche qui 20.000 ore dopo le quali rimane ancora il 50% del flusso luminoso i laser invece hanno una durata sensibilmente superiore ma anche qui non sempre i proiettori con tanti laser hanno solo i laser potrebbero avere anche i fosfori li vedremo tra poco partiamo invece con le tre tecnologie principali la prima è anche quella probabilmente la più antica è utilizzare la tecnologia LCD e adesso un attimo vi faccio vedere vediamo se riesco vi faccio vedere qui ho un piccolo prisma piccolo tra virgolette che è il cuore di un proiettore LCD in questo caso questi sono i pannelli LCD che sono come una diapositiva ovvero la luce passa attraverso il pannello e ogni pixel è formato da cristalli liquidi che funzionano come una valvola di luce che permette o meno il passaggio della luce in questo caso nell'architettura che adesso rivedremo la luce della lampada o di qualsiasi altro sistema di illuminamento viene suddiviso per le tre componenti cromatiche che arrivano infine sul cuore da tre direzioni differenti e poi vengono messe insieme da quello che è un prisma di cronico che miscela le tre componenti in modo che poi passino attraverso l'obiettivo e arrivano sullo schermo torniamo alla struttura vedete il sistema di illuminamento una serie di specchi digroici riflettono una parte dello spettro luminoso ne lasciano passare un'altra in modo da suddividere lo spettro nelle tre componenti rossa verde e blu e ripeto passare attraverso il prisma e così via la tecnologia che chiamiamo 3LCD perché appunto ha tre micro display distinti per ogni componente cromatica ha un rapporto di contrasto nativo che è piuttosto variabile per quanto riguarda i proiettori tradizionali per quanto invece riguarda i proiettori UST visto che sono pochissimi i modelli con questa tecnologia statisticamente misuriamo un rapporto di contrasto nativo tra 600 e circa 900 a 1 come rapporto di contrasto l'efficienza luminosa in questo caso è molto elevata vuol dire che a parità di watt o di lumen prima di entrare nell'engine il risultato insomma è un'efficienza abbastanza elevata la filizzatura è abbastanza semplice però in questo caso è molto importante la pulizia dei filtri per levar la polvere in questo caso i tempi di risposta sono molto ridotti per esempio per chi utilizza il gaming potrebbe essere un argomento interessante anche se poi vedremo anche nelle prossime puntate del webinar che questo non sempre vale in questo momento però segnaliamo che non esistono proiettori UST home theater con tecnologia LCD a risoluzione nativa 4K i proiettori che ci sono in questo momento utilizzano micro display full HD con volbulazione in due dimensioni ovvero con un raddoppio della risoluzione nativa che però in realtà non è proprio un raddoppio come vedremo più avanti questa invece è la tecnologia ELCOS ELCOS sta per liquid crystal on silicon è utilizzata per quanto riguarda i proiettori UST da Sony in questo caso con un prodotto di fascia altissima che vedremo tra poco il principio è più o meno lo stesso anche se il micro display che adesso vi faccio vedere è questo questo per esempio è un SXRD Franco se mi fermo a zoom magari lo facciamo vedere meglio ripeto questo è il molti la chiamano matrice in realtà il nome tecnico è micro display Emilio scusa mi sono disattiva la condivisione almeno in modo tale che si possa vedere a schermo intero ok fammi uno zoom Franco il più vicino possibile ok mi avvicino io fuoco fuochino 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 ce la puoi fare benissimo allora la struttura è molto diversa perché qui la luce non attraversa più il micro display ma viene riflessa questo diciamo ha due vantaggi il primo vantaggio è che è possibile raffreddare il micro display dall'altra parte quindi non costringe a utilizzare il passaggio dell'aria nell'engine quindi in questo caso è possibile fare prodotti che resistono un po' di più alla polvere e alle condizioni ambientali l'altro vantaggio lo vediamo subito è quello di avere una superficie la vediamo al centro molto vicina tra un pixel e l'altro perché il transistor che controlla un singolo pixel è al di sotto del pixel stesso in questo caso la luce viene riflessa dal pannello mentre la tecnologia LCD funziona come nel primo caso per una valvola di luce che decide quanta luce deve passare il proiettori e il COS sono caratterizzati tradizionalmente da un rapporto di contrasto nativo molto elevato questo però per quanto riguarda i proiettori tradizionali con ottica a tiro medio lungo e lungo parlo per esempio dei proiettori Sony ma soprattutto GVC nel caso del proiettore a tiro cortissimo che vedremo tra poco che in questo momento è fatto solo da Sony in realtà il rapporto di contrasto nativo è un po' più contenuto in questo caso l'efficienza della emissione è comunque abbastanza alta l'architettura è un po' più complessa rispetto alla tecnologia 3LCD però come ho detto prima la pulizia dei filtri non è determinante i tempi di risposta sono molto bassi e ripeto prodotti il COS in questo momento limitati a Sony e GVC per quanto riguarda i proiettori tradizionali nel settore business c'è Canon per quanto riguarda l'UST c'è solo Sony con un prodotto che vedremo dopo la tecnologia DLP in questo caso è diciamo un simile come principio alla tecnologia del COS perché qui la luce come vedete a destra viene riflessa ma non passa attraverso il micro display il micro display che è completamente metallico ogni micro specchio in realtà è un pixel e il pixel ha un punto un meccanismo che oscilla in due posizioni in modo da riflettere la luce verso l'obiettivo oppure verso una struttura che assorbe la luce che rimane al terro del proiettore queste sono le due tipiche architetture possibili con un proiettore con tecnologia DLP a sinistra vediamo l'architettura con tre micro display 3D-MD DMD sta per Digital Micro Mirror Device ovvero dispositivo digitale a microspecchi quella sinistra e quella tradizionale per esempio per i proiettori cinematografici o per i proiettori dove è necessario un grosso flusso luminoso e una correttezza cromatica esemplare sulla destra invece vediamo un'architettura più comune soprattutto sui proiettori home theater o anche sui proiettori business di fascia media e fascia bassa ovvero la possibilità di utilizzare un solo micro display perché la velocità di commutazione di questi microspecchi è così elevata che è possibile realizzare la sintesi additiva quindi rosso verde e blu per ogni pixel non con tre micro display ma in maniera sequenziale quindi far far dare al micro display la luce prima rossa poi verde e poi blu e altri colori complementari non senza qualche limite ovviamente che vedremo più avanti nei proiettori con lampada e con anche con laser fosfori c'è bisogno ovviamente di una ruota con dei filtri di croici che separano le tre componenti cromatiche per l'arrivo sul micro display in maniera sequenziale e qui è veramente molto eterogenea la struttura dei filtri perché qui è possibile giocare ovviamente con l'efficienza luminosa cerco di spiegarmi meglio a parità di sistema di illuminamento per esempio immaginiamo una lampada io posso decidere per esempio di adottare una ruota colore con soli quattro segmenti quella che vedete in alto a sinistra ovvero con degli spicchi rosso, verde e blu uno spicchio trasparente o bianco come dice qualcuno in modo da avere un'enorme efficienza luminosa sul bianco e sulla scala di grigi ma avere magari dei colori con un livello di illuminanza un po' decisamente più inferiore rispetto al bianco oppure sull'estrema destra sempre in alto la classica ruota colore per i pretori home theater di fascia alta come per esempio pretori BenQ W5007 e 2007 ebbene in questo caso l'efficienza luminosa è leggermente inferiore a parità di sistema di illuminamento ma non c'è praticamente quasi differenza tra l'aviglio di illuminamento del bianco e dei colori e questo consente di avere un'accuratezza nella riproduzione cromatica superiore ed è possibile anche giocare sulla pendenza di questi filtri guardate le ruote colore più in basso per esempio è chiaro che quando lo spicchio per esempio rosso è più scuro vuol dire che viene filtrato meglio quel colore il colore sarà più saturo ma è chiaro che passerà meno luce quindi l'efficienza sarà più bassa nei proiettori più moderni non ci sono solo spicchi di colore rosso verde e blu ma ci sono anche i colori complementari spesso solo il giallo ma anche il ciano e il magenta che grazie alla tecnologia brillian color nei colori di LP consente di aumentare notevolmente l'efficienza senza rinunciare troppo allo squilibrio tra la luminanza del bianco e quella dei colori qui un po' riassumo quali sono le caratteristiche della tecnologia di LP in questo caso il rapporto di contrasto nativo è compreso statisticamente tra 1000 e 2001 per quanto riguarda i proiettori UST quello che ho visto nei primi test relativi non solo ai prodotti BenQ ma anche a qualche altro brand come Optoma o anche Samsung i primissimi che abbiamo misurato siamo di solito tra gli 800 e i 1000 a 1 come rapporto di contrasto l'efficienza luminosa come ho detto è media ma dipende dal tipo di sistema di illuminamento e dalla ruota colore l'architettura a monocip è molto semplice in questo caso come per l'ELCOS il chip DMD può essere raffreddato dalla parte che non viene utilizzata è molto efficiente da questo punto di vista il raffreddamento e non serve addirittura cambiare filtri polvere i tempi di risposta sono medi ma in molti casi abbiamo visto proiettori di LP con dei tempi di risposta sovrapponibili a quelli dei proiettori LCD o ELCOS vediamo infine una diciamo simulazione vabbè simulazione sull'estrema destra vediamo un DLP è una fotografia al microsuopo elettronico vediamo proprio qual è la struttura con il fulcro centrale dove è ancorato il meccanismo che permette l'oscillazione però in linea di massima l'LCD è quello che ha più spazio tra un pixel e l'altro c'è anche il transistor appunto che controlla il funzionamento di ogni pixel transistor che è nell'ELCOS che è in posizione centrale in questa immagine invece al di sotto quindi c'è meno spazio tra un pixel e l'altro e poi il DLP che è un compromesso tra i due vediamo invece cosa offre il mercato in questo momento sulla sinistra vediamo un Epson e HLS500W che è uno dei pochissimi proiettori LCD sul mercato ha una sistema di illuminamento ibrido con laser e fosfori un flusso luminoso dichiarato di circa 4000 lumen e all'interno abbiamo tre micro display con una diagonale di 0,62 pollici questo è un aspetto importante che vedremo tra poco la risoluzione ripeto di questi micro display è full HD e poi c'è una una volvolazione ovvero c'è un sistema ottico che permette al proiettore di proiettare due immagini full HD sfalzate di circa mezzo pixel in diagonale in modo da aumentare la risoluzione risoluzione che non viene raddoppiata in realtà ma è un compromesso perché l'immagine è comunque parzialmente sovrapposta sulla destra vediamo invece il modello con tecnologia Elkos di Sony il WPL VZ1000 anche qui abbiamo un sistema di illuminamento laser e fosfori ovvero laser blu e fosfori gialli o fosfori rossi e blu in questo caso i micro display hanno una diagonale di 0,74 pollici a risoluzione nativa 4K in questo caso 4096x2160 il proiettore ha dimensioni nettamente più importanti rispetto all'Epson però guardate la prima particolarità l'Epson ha l'ottica superiore e invece il Sony come gli altri proiettori soprattutto quelli di LP che vedremo più avanti hanno invece l'ottica integrata all'interno del telaio le dimensioni del micro display perché sono importanti perché diciamo che a parità di condizioni per alcuni sistemi ottici una dimensione più grande del micro display consente rapporti di tiro più ridotti in questo caso sia per Epson che per Sony il rapporto di tiro è molto simile per Epson credo che sia 0,27 vedremo poi che cosa è il rapporto di tiro e per Sony credo circa 0,25 vediamo invece un paio di esempi per la tecnologia di LP sulla sinistra abbiamo il BenQ V6000 o V650 che è il prodotto con il telaio nero ha un flusso luminoso dichiarato di 3000 lumen anche qui laser fosfori in questo caso invece abbiamo un DMD con diagonale da 0,47 pollici che conosciamo molto bene la risoluzione nativa in realtà è in full HD ma la tecnologia di popolazione che Texas Instruments che produce il DMD chiama XPR e in quattro direzioni ovvero con lo stesso pannello vengono riprodotte quattro immagini full HD in quattro punti diversi in modo da simulare una risoluzione in 4K e dai nostri test anche sugli altri prodotti a tiro medio a tiro lungo come appunto il BenQ 5700 e 2007 abbiamo visto che funziona e potete trovare su AV Magazine poi magari vedremo se c'è tempo di dare un'occhiata le foto che abbiamo fatto anche molto piccole sui particolari di come funziona la tecnologia XPR sulla destra invece vediamo un Samsung un prodotto che sta facendo molto parlare ultimamente perché è uno dei primissimi prodotti che utilizza 3 laser ma non solo per questo vedete che c'è una differenza sostanziale per quanto riguarda la tecnologia è sempre un DLP utilizza un DMD ma con diagonale da 0,66 pollici quindi sensibilmente più grande però attenzione abbiamo una risoluzione particolare la risoluzione nativa è di 2716 per 1528 abbiamo già parlato di questo DMD e di questa tecnologia ed è stata la prima la prima soluzione di Texas Instruments per riprodurre immagini a risoluzione 4K in questo caso però la risoluzione nativa 4K deve essere riscalata a una risoluzione che non è un multiplo o un sottomultiplicolo della risoluzione nativa e questo crea dei piccoli artefatti di aliasing che poi adesso vi faremo vedere d'altra parte ripeto le dimensioni più generose del DMD consentono un rapporto di tiro più contenuti e aumenta anche la capacità di rendere il dettaglio quindi a parità di condizioni fianco a fianco un proiettore con questo tipo di micro display quindi un DMD da 0,66 pollici o un proiettore con DMD da 0,47 pollici e tecnologia XPR da un lato avremo probabilmente una maggiore risoluzione dall'altro per il Samsung avremo un maggior dettaglio ma con la comparsa di qualche artefatto vediamo un po' un riassunto sulle tecnologie a confronto ovvero vi ricordo il rapporto di contrasto nativo qui è difficile fare una casistica generale anche perché siamo all'inizio dei test su proiettori a tiro cortissimo però diciamo che i proiettori di fascia più bassa hanno un rapporto di contrasto veramente molto contenuto anche 301 anche più in basso i proiettori di fascia più alta diciamo che oscillano attorno a 1000 a 1 come rapporto di contrasto tra 800 850 900 951 non c'è tantissima differenza però insomma tra 801 e 1000 probabilmente in un side by side questa differenza potrebbe essere sensibile l'altra differenza sostanziale riguarda il flusso luminoso benché aziende dichiarino un flusso luminoso abbastanza simile vi ricordo 2500 lumen per Sony 3000 lumen per BenQ 2800 lumen per Samsung e così via in realtà ci sono molte differenze dopo la calibrazione spesso il flusso luminoso dichiarato si riferisce a un bilanciamento del bianco che è molto lontano da riferimento spesso c'è una dominante verde per togliere questa dominante verde bisogna togliere il verde dal bilanciamento al bianco con la conseguenza di ridurre in maniera considerevole il flusso luminoso il gamut ovvero la situazione dei colori la precisione dei colori è legata qui sia al tipo di illuminamento scelto sia ai filtri di colore se questi ci sono nei prodotti con sistema laser spesso spesso non c'è una ruota colore soprattutto nei sistemi trilaser ovvero sono i laser che vengono accesi in sequenza simulando la presenza di una ruota colore però attenzione anche in questo caso i laser possono essere accesi anche contemporaneamente quindi in questo caso è possibile simulare una ruota colore anche con uno spicchio trasparente quindi all'interno dell'economia del fotogramma io posso accendere per un certo periodo di tempo il laser rosso poi il laser verde poi il laser blu ma anche tutti insieme nell'ultimo momento in questo caso avrò un livello di flusso luminoso sbianco molto elevato ma poi i colori saranno inevitabilmente più scuri quindi attenzione anche in questo caso e molto di erogene anche il costo di questi prodotti che uscilla anche al di sotto di un euro dei prodotti di fascia più bassa però in questo caso state attenti perché il rapporto di contrasto è molto basso la qualità dell'ottica non è sempre all'altezza dell'aspettativa e questo porta per esempio a una disoniformità della messa a fuoco lungo lo schermo compatibilità con segnali per esempio HDR 4K 60P eccetera eccetera 10.000 euro anche oltre per prodotti di fascia altissima come il Sony che abbiamo visto prima ora un piccolo recap per quanto riguarda invece il rapporto di tiro che vi ricordo è il rapporto matematico che c'è tra la distanza tra la lente e la superficie di proiezione e la larghezza dello schermo questi sono due esempi di un proiettore con tiro medio circa 1,41 come rapporto di tiro e uno con tiro lungo 2,81 nei proiettori tradizionali di solito c'è uno zoom per esempio nei proiettori BenQ è di 1,6 per il 5.700 se non sbaglio per altri tipi di proiettori arriva anche a 2 o che di più 2,1 per come nel caso dell'Epson 9.4 nei proiettori a tiro cortissimo di solito lo zoom non c'è tranne in rarissimi casi come il Sony 1000 e quindi in quel caso è possibile decidere le dimensioni dello schermo solo con la distanza tra il proiettore e la superficie di protezione attenzione però a un fattore perché come viene indicato il rapporto di tiro può anche avere poco senso sapere qual è il rapporto di tiro nativo ovvero 0,25 0,27 o addirittura 0,19 anche meno per i proiettori Samsung in questo caso la cosa che interessa forse di più al consumatore finale l'installatore è la distanza che c'è tra la parte più prossima allo schermo del proiettore è la superficie di proiezione e il pannello che invece c'è dato l'altra parte quindi le dimensioni del proiettore per capire se è possibile posizionare il proiettore su una console o su un mobile e a che distanza appunto deve essere la parte più lontana del proiettore rispetto allo schermo queste sono misure che raramente vediamo nelle caratteristiche tecniche sono per esempio sui siti dei vari produttori però sono misure che noi indicheremo ogni volta che faremo un test dei proiettori a tiro cortissimo a questo punto penso che sì siamo andati anche ben oltre le previsioni però diciamo che sono pronto al questionario al secondo poll spero che Luca ci sia ancora che non mi abbia abbandonato sì Emilio ci sono scusami allora intanto stavamo rispondendo a qualche domanda che era pervenuta dai nostri partecipanti sì direi di a questo punto direi di pubblicare il secondo sondaggio chiedo a Davide di postarlo direttamente per i nostri partecipanti andiamo a chiedere quindi se dopo il webinar tenuto da Emilio i nostri partecipanti ritengono di dover cambiare la risposta data in precedenza quindi se il punto di forza di video proiettori ad ottica ultracorta per loro è sempre quello per cui avevano risposto all'inizio della puntata oppure se o se è cambiato qualcosa o se è cambiato iniziamo a vedere i primi voti che stanno arrivando poi andiamo a sviscerare le domande già vediamo iniziamo a vedere dei voti un pochino diversi rispetto a prima no in realtà c'è ancora qualcuno qualcuno ha cambiato qualcuno l'ha cambiata si 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 cambiare diciamo che il vantaggio del posizionamento sicuramente avere un proiettore appeso al soffitto o su una mensola su un mobile dalla parte porta dello schermo è sicuramente più elegante d'altra parte uno dei grandi vantaggi è quello di non avere problemi nel collegamento di solito le sorgenti sono in posizione anteriore e quindi basta un cavo di lunghezza ragionevole per collegare il proiettore anche perché poi su un mobile tv probabilmente ho il mio skybox o il mio e eccetera quindi ho la possibilità di avere il collegamento direttamente senza dover passare dei cavi che molto spesso inficiano anche sulla qualità poi della proiezione giusto? comunque l'integrazione stravince eh sì andiamo a chiudere assolutamente andiamo a far vedere i risultati ancora di più in proporzione sì l'integrazione elegante qualcuno ha anche selezionato la bassa rumorosità però sicuramente l'integrazione è quella che ha vinto di più probabilmente c'è stato qualcuno che ha anche modificato la sua domanda la sua risposta quindi insomma guarda se posso vi faccio vedere un attimo se posso ricondividere lo schermo o non posso certo sì sì fai pure vi faccio vedere giusto appunto le condizioni standard di un proiettore a tiro medio o a tiro lungo vedete rispetto al punto di osservazione il proiettore è comunque sopra la testa più o meno tranne nei proiettori a tiro lunghissimo però attenzione che per i proiettori a tiro lunghissimo quando questo è possibile per esempio anche con un proiettore di fascia alta con un proiettore Sony con un GVC quando si sceglie la posizione tele dell'obiettivo il proiettore si è molto lontano dal punto di visione ma si perde molto in termini di flusso luminoso anche fino al trenta per cento in meno del flusso luminoso questa invece è la condizione del proiettore a tiro medio corto come per esempio potrebbe essere un BenQ 2007 ovvero il tavolino davanti ma anche qui diciamo che è abbastanza vicino al punto di osservazione mentre il proiettore a tiro cortissimo che è insomma ben distante dal punto di osservazione ottimo allora grazie io direi di a questo punto passare alle domande ci sono trasferito al mare ho visto che ci sono più caldo lì però sei sempre un giochettino eh vabbè la barchetta mi aspetta Temptation Island incombe Emilio dammi i poteri per di relatore allora darti i poteri di relatore eh la faccio io ce l'ho a posto ah eccolo allora vedete il mio schermo sì dovreste vedere no vedete quello sotto un attimo solo ok adesso vedete dovreste vedere quello corretto sì partiamo dalla prima volevo chiedere come degrada la luminosità nel corso del ciclo di vita di 20 ore di 20.000 ore del proiettore grazie mille allora hai spiegato la differenza tra le sorgenti luminose spieghiamo un po' come degrada la luminosità tra lampada e laser soprattutto allora la lampada scarica innanzitutto le prime ore di grada abbastanza rapidamente non cambia solo il flusso luminoso ma cambia anche il colore l'arco della scarica che c'è dentro la lampada diciamo che si allunga un pochino la parabola della lampada si cuoce quindi cambia proprio il colore della luce e di solito è più freddo all'inizio e poi man mano si riscalda tra virgolette ovvero aumentano le frequenze gialle e rosse rispetto a quelle dopo le prime 100-150 ore questo degradamento è sempre più lento invece per quanto riguarda il sistema laser fosfori c'è più stabilità all'interno di solito all'interno dei proiettori c'è un sistema di feedback che permette di mantenere costante il colore di questa luce e comunque ripeto è più regolare diciamo il consumo del sistema di illuminamento quindi non è rapido all'inizio e poi è più regolare aggiungo anche che la stragrande maggioranza di prodotti con sistema laser fosfori come il BenQ V6000 e V650 hanno un sistema di illuminamento la possibilità di comandarlo in maniera smart tra virgolette ovvero è possibile modulare la potenza in questo caso non solo aumentando il rapporto di contrasto sequenziale ma aumentando ulteriormente la vita del sistema di illuminamento cosa invece non possibile con la lampada perché cambiando la potenza della lampada cambia proprio la frequenza di illuminamento e della frequenza di alimentazione della lampada stessa e quindi c'è bisogno di un po' di tempo per stabilizzarla quindi non è possibile fare questo giocchino proprio con almeno non per tutti i proiettori in questo caso quindi il sistema laser è più interessante anche per poter prolungare la vita della lampada e poter giocare sulla porta di contrasto su alcuni nostri proiettori laser sul nostro sito infatti viene riportata ve la faccio vedere a tutto schermo questa figura che dimostra chiaramente qual è la curva di degrado di un proiettore a lampada rispetto a un proiettore laser che è molto più stabile nel tempo quindi sicuramente è un po' quello che dicevi tu prima in video allora poi la domanda i proiettori ottica ultracorta possono essere installati a soffitto per chi non ha spazio sul mobile allora in alcuni casi sì è possibile ci sono dei proiettori che lo prevedono ovvero nel menu è possibile settare la proiezione a soffitto molto pochi hanno questa possibilità diciamo che in questo caso di solito viene meno l'utilizzo dello schermo LR perché uno dice ok io lo schermo LR lo uso comunque e lo giro in modo che rifletta la luce che arriva dall'alto ovvero dal proiettore che è a soffitto ma in questo caso diciamo il sistema che ha la base dello schermo LR della sinergia tra schermo LR e proiettori VST viene meno perché la luce che in ambiente di solito il soffitto è più chiaro viene soprattutto dall'alto e quindi il sistema non funzionerebbe comunque funzionerebbe molto meno in quel caso se proprio è necessaria l'installazione a soffitto come per una lavagna luminosa parliamoci chiaro magari consigliamo l'utilizzo di uno schermo normale però tecnicamente funziona cioè se io non ho lampade in alto non ho il soffitto bianco e tutto quanto tecnicamente funziona certo non si comporta diversamente insomma l'angolo rimane ideale per la vista ah quello sì quello dico sto dicendo che in un soggiorno in un soggiorno normale se la luce entra dalla finestra il soffitto è bianco quindi insieme alla luce del proiettore arriverà anche la luce ambiente che verrà riflessa e non assorbita certo ok poi dove posizionereste il canale centrale rispetto ad un proiettore ad ottico oltracorta in questo caso presumo ovviamente di un proiettore ad ottico oltracorta finalmente la domanda che aspettavo perché in effetti un grosso problema per chi ha un impianto un theater con canali discreti è il canale centrale in questo caso il proiettore VST va proprio in una posizione ideale dove uno vorrebbe mettere il canale centrale però ci sono due soluzioni la prima soluzione ovviamente è quella di utilizzare il canale centrale sotto al proiettore quindi nel mobile che dove è appoggiato il proiettore VST magari più in basso c'è lo spazio per mettere un canale centrale questa potrebbe essere una soluzione l'altra soluzione invece più difficile è quella di utilizzare il sistema di riproduzione audio del proiettore VST come canale centrale dico più difficile per due motivi prima di tutto per la qualità del sistema audio utilizzato dai proiettori VST perché è piuttosto interogene ci sono prodotti con sistema audio interessante con una buona risposta in frequenza anche con una pressione sonora interessante prima delle distorsioni altri invece un po' meno e l'altro motivo è che non sempre è possibile utilizzarlo ovvero non posso dare utilizzare l'uscita del canale centrale dal sintomplificatore e farla rientrare all'interno del proiettore VST e diciamo nelle recensioni prossime dei proiettori VST ci preoccuperemo anche di questo problema ottimo ci sarebbe perdone anche anche la possibilità nei pochi centimetri che ci sono tra il proiettore e l'inizio dell'immagine avevamo detto 25 circa di incassare un diffusore ipotesi che capita a volte nelle installazioni o mettere un diffusore che comunque ha uno spessore molto molto limitato tale da non dover spattare l'immagine certo siamo al limite proprio però ecco è capitato di incassare dei diffusori a parete in quel caso non avresti nessuna sporgenza che può impallare l'immagine che viene dal proiettore molto interessante se uno volesse averlo all'altezza diciamo corretta insomma questa è l'idea poi un partecipante ci scrive sarebbe interessante provare una misura di contrasto in ambiente giusto per capire dove si posiziona i proiettori tradizionali questa in realtà è una domanda a cui risponderemo nelle prossime puntate giusto Emilio? sì perché allora nel prossimo sabato faremo un approfondimento sul BenQ 6000-6050 ovvero vedremo per esempio l'interno come è fatto vedremo la tecnologia vedremo il menu vedremo anche come fare il setup proprio il posizionamento della macchina e poi nell'ultimo webinar ovvero quello della calibrazione oltre che far vedere come calibrare al meglio la macchina fanno vedere dati misure tra cui proprio questa della misura del rapporto di contrasto in ambiente non e poi ci sarà l'articolo vero e proprio quello esaustivo con tutte le misurazioni del proiettore tra cui anche quella del rapporto di contrasto quindi per chi non l'avesse ancora fatto link registrazione alle prossime puntate di sabato prossimo e del sabato 28 andando avanti i proiettori a tiro ultracorto sostituiranno quelli classici a breve anche dove non ci sono reali problemi di installazione chi può dirlo allora il proiettore a tiro cortissimo ha un innegabile vantaggio che è quello che abbiamo visto poco fa anche riguardo al vostro questionario si integra meglio sicuramente nell'ambiente e di più facile installazione permette di risolvere molti problemi tra cui la lunghezza di cavia e tutto il resto quindi ha delle carte in più per entrare nelle case dei consumatori questo è innegabile d'altra parte è altrettanto innegabile che al momento la qualità d'immagine che mi può dare in questo caso un BenQ 5007 quindi con un rapporto di tiro medio in una stanza dedicata senza luce è più elevato rispetto a quello di un proiettore VST sempre rimanendo in casa BenQ però ripeto il vantaggio principale non è solo quello ma è quello di avere un'immagine molto grande ad un prezzo incredibile io vi ricordo che appunto con un proiettore VST è possibile illuminare fino a 135 pollici diagonali noi vi abbiamo fatto vedere nella prima puntata nella nostra stanza nella nostra saletta un theater dove proviamo i prodotti abbiamo uno schermo a 3 metri di base e il BenQ tranquillamente riempiva tutta la superficie dello schermo senza problemi quanto costa un tv da 135 pollici non esiste ma anche un tv da 100 pollici ha un costo insomma sensibilmente elevato non dico i 60.000 euro del Samsung 8K però insomma ci sono prodotti che costano sicuramente meno prezzo elevato in questo caso invece è possibile avere un prodotto cioè uno schermo un'immagine da 100 pollici con un impegno economico sicuramente più contenuto oltre a quello che dicevamo la volta scorsa portate un tv da 100 pollici esatto che lì si ti serve veramente un installatore qualificato per poterlo installare oltre che deve avere anche una parete che lo riesca a reggere perché noi abbiamo provato noi abbiamo altri vendiamo anche monitor largo formato da 86 pollici che comunque magari in strutture non proprio anche nelle scuole in strutture dove non sono così carrozzate occorre il famoso scarico a terra quindi un'asta che mi permetta di scaricare il peso del monitor sul pavimento è ovviamente ben diversa la situazione in cui devo installare un telo da 4 kg rispetto a un televisore da 100 kg paradossalmente posso portarmi il proiettore a ottica ultracorta anche al mare cioè nel caso al mare se lo porta lo mette sotto la parete e l'installazione è assolutamente semplice si appoggia sul mobile e tu hai i 100 pollici sia a casa che al mare in una posizione magari che crei ad hoc ma senza nessun problema il 100 pollici invece tv da staccare dal muro ma anche l'80 nessuno si stacca il televisore e se lo porta al mare quindi in quell'ottica anche può essere anche da 50 pollici esatto nessun preditore ti porti invece abbiamo visto la scatola di questi proiettori alla fine non è un volume esagerato quindi anche in quest'ottica la facilità di spostarlo da un ambiente all'altro anche se non nascono per questo però effettivamente effettivamente ti puoi portare nella casa al mare un proiettore che ti riempie una parete d'estate o d'inverno sempre fuori andiamo alla prossima è possibile utilizzare i video proiettori in uno studio televisivo ad alta illuminazione? dipende prima di tutto dal livello di illuminamento che c'è all'interno dello studio televisivo e poi bisogna anche verificare la frequenza e se c'è battimento tra l'otturatore delle camere televisive delle telecamere e la frequenza in cui lavora il micro display del proiettore quindi io farei prima una verifica più che altro su questo tipo di problema e non sul sistema di illuminamento perché con uno schermo LR in realtà non dovrebbero esserci problemi perché abbiamo visto anche in trasmissioni insomma recenti sistemi in retroproiezione con livelli di illuminanza comparabili a quelli che c'è che ha un proiettore ST su uno schermo LR inoltre diciamo che anche in uno studio televisivo l'altro fattore problematico è la distanza da cui proietti non parlando di video però di solito no allora di solito di un retroproiezione se c'è spazio di solito c'è spazio di solito o metti un video wall oppure metti un telo di proiezione e il proiettore o dietro quindi dietro al set magari c'è spazio oppure dall'alto quindi dalle americane appendi il proiettore e proietti però mi rendo conto che in su di televisivi più piccini e se vuoi fare un'immagine grande potrebbe essere una soluzione interessante quella di un proiettore ust con schermo all'r si affogato nel pavimento il proiettore che no poi c'è una reale differenza prima di modellia un laser rispetto a quelli a tre ma in questo caso sono anche indicati di nostre cui quindi sono un po' in difficoltà per un motivo molto semplice allora prima del light lockdown di queste settimane io sono in Abruzzo e noi siamo in questo momento in zona arancione quindi ci è impedito andare insomma in un'altra regione e quindi non posso andare da Fulvio Fulvio in questo momento credo che sia l'unico da avere addirittura entrambi i prodotti Samsung comunque io ho visto il primo Samsung ho visto il Samsung quello con laser fosfori tradizionale esattamente come ha il BenQ però siccome è un prototipo tra virgolette cioè non è un prodotto ancora definitivo ho promesso per interposta persona quindi a Fulvio che non avrei pubblicato e non avrei detto cose sul prodotto e diciamo siccome voglio continuare a testare prodotti Samsung oltre che BenQ mi guardo bene da fare dei commenti però una cosa la posso dire io il trilaser invece ancora non l'ho visto perché non posso andare a Roma ma mi sto organizzando anche mandare una persona di fiducia a fare qualche misurazione da non pubblicare sempre una cosa però posso dirla allora prima di tutto il Samsung dichiara per questo prodotto trilaser addirittura il 106% dello spazio colore del REC 2020 ammesso e non concesso che questo sia poi effettivamente verificabile e noi immodestamente abbiamo la strumentazione per verificarlo non lo spettrometro giocattolo della X-Rite ma insomma abbiamo spettrometro e la risoluzione e potremmo verificare questa cosa potrebbero esserci dei problemi perché quando lo spazio colore è così enorme potrebbero esserci problemi di metamerismo ovvero non è detto che le persone percepiscano i colori soprattutto quelli più saturi ma anche quelli meno saturi allo stesso modo è un primo problema il secondo problema è dato da qualche effetto collaterale dell'utilizzo dei laser e quindi insomma e poi anche dalla possibilità di tarare queste macchine perché più le componenti cromatiche rosso verde blu sono molto sature molto profonde ed è il caso del prodotto come Samsung e più gli strumenti di misura tradizionali vanno un po' in crisi quindi diventa difficile proprio eseguire la calibrazione e invece l'ultima nota per quanto riguarda il proiettore Samsung che ha un rapporto di tiro estremamente contenuto dichiarato è 0,189 cioè addirittura meno di 0,19 quindi vuol dire aggiunto l'offset della macchina che la luce arriva sulla parte più alta dello schermo con un angolo di incidenza elevatissimo cioè molto lontano dalle condizioni ideali di uno schermo normale e questo potrebbe mettere in crisi anche il sistema di messa a fuoco ovvero potrebbe non essere uniforme la messa a fuoco per le tre componenti cromatiche quindi è una cioè mi intriga molto andarlo a vedere penso che sia un'immagine molto diversa un'immagine diversa mi immagino colori più saturi e sono molto curioso però ecco non posso dirlo magari qualcosa ce la vuol dire Fulvio Fulvio grazie però noi non possiamo dirlo però le persone possono venire da te e vedere il prodotto funziona nel senso che accendere si accende la luce la fa e l'immagine la proietta no impressionante hai ragione su una cosa impressionante il rosso cioè quanto è saturo il rosso fa spavento cioè quella è una cosa che mi ha colpito molto cioè proprio esce questo logo rossissimo e poi la mia domanda è poi ma cioè riesco a riprodurre un rosso corretto o avrò sti rossi molto profondi secondo me se prendi uno che sa tarare bene come quello lì di Teramo non mi ricordo come si chiama potrebbe riuscirci però non lo so quando verrà ce lo ce lo farò vedere c'è una cosa che mi mi lascia un po' perplesso mi ridai un attimo la condivisione che facciamo un po' ci facciamo vedere un po' una cosa aspetta un attimo che la disattivo io Emilio vai è tutto tuo allora mi vedete lo schermo sì allora io vabbè avevo aperto un po' di avevo già aperto le pagine di prodotto di alcuni proiettori ust e questo è il samsung ok e il samsung quello a tiro cortissimo trilaser lsp9t e praticamente quando sono andato a vedere le caratteristiche tecniche un po' nascoste in basso vediamo se ci arrivo che c'erano eccole qui allora caratteristiche tecniche mi è caduto l'occhio su una cosa un po' particolare non si menziona il tipo di micro display non si menzionano molte cose però ecco qui light source type trifle laser ok vedete il rapporto di tiro true ratio 0 189 invece questa qui mi ha lasciato un po' perpresso potrebbe anche essere un errore di di un refuso però 20.000 ore mi fa pensare che dentro magari ci siano anche dei fosfori perché di solito un laser dura dovrebbe durare molto di più di 20.000 ore quindi sono rimasto un po' perplesso da questa caratteristica particolare miglio te la faccio io una domanda ma a 0 19 l'angolo di riflessione dell'angolo di tiro del proiettore non è troppo angolato per il per lo schermo LR sta quasi fuori per lo schermo LR no sta al limite però leggevo qua nel brochure BenQ che indicano rapporto 0203 0203 quindi bisogna capire se è un dato reale oppure come al solito c'è la virgola in mezzo allora attenzione dal punto di vista tecnico cioè per quanto riguarda il funzionamento della tecnologia LR dello schermo ci dovremmo stare perché comunque ci sono un po' di tolleranza ci dovremmo stare quello che aumenta è la sensibilità di tutto il sistema a uno errore di posizionamento e imperfezioni dello schermo del muro perché comunque noi appendiamo lo schermo al muro del muro non è e non succede quasi mai che è perfettamente dritto potrebbe esserci qualche assestamento sullo schermo si poi faremo vedere come risolvere anche questi problemi però potrebbe esserci qualche problema e quindi una leggera distorsione potrebbe essere più visibile da questo punto di vista quindi più riduci il rapporto di tiro e ripeto più aumentano i problemi le distorsioni la possibilità di trovare qualche distorsione geometrica qualcuno può dire ma come si dice a Roma il grande capo e sti cazzi potrebbe dire quanto segue ma tanto c'è la gestione della geometria del keystone e quindi io comunque posso rimettere a posto gli errori geometrici dell'immagine dal punto di vista elettronico e no perché se io uso il keystone angolare o altri sistemi vado a fare un ricampionamento della risoluzione dell'immagine quindi vado a ridurre la risoluzione e a introdurre comunque degli artefatti di aliasing quindi se io voglio il massimo della qualità devo cercare di installare il proiettore di trovare la posizione giusta solo con la posizione del proiettore e con i piedini però ripeto io il proiettore lo voglio vedere cercherò di organizzarmi di vederlo spero che Samsung ci mandi un esemplare prima possibile anche se visto il periodo la vedo molto dura ok torniamo sulla mi aspetta mi riprendo i poteri di presentatore e faccio vedere a questo punto torno sulle domande ok ok dovreste vedere a pieno schermo sì c'è ancora spazio nella videoproiezione domestica per i CRT allora io ho un proiettore CRT ho un proiettore a tre tubi da nove pollici che sto come idea sto cercando di rimetterlo a nuovo per rispondere alla domanda per farci mi piacerebbe nel mio soggiorno un acquario far no l'acquario no mettere il proiettore con dei led eccetera per far vedere un bel proiettore barco di qualche anno fa no la risposta è no nel senso che anche il miglior proiettore con tubi da nove pollici utilizzato nei simulatori militari che ha sicuramente un livello del nero pazzesco eccetera ma innanzitutto risoluzione e dettaglio gamut e altre caratteristiche ma soprattutto flusso luminoso quasi incompatibili prima di tutto con l'HDR e con quello che utilizziamo in questi giorni ma soprattutto con le dimensioni perché è vero che un prodotto un CRT con tubi da nove che costavano fino a 100 milioni di lire cioè costavano veramente tantissimo se parliamo di prodotti che pesavano più di un cristiano anche se tanto 80 kg accendi il proiettore anche 40 minuti prima di iniziare a vedere il film perché si deve riscaldare deve andare in convergenza cioè diciamo è un tipo di prodotto che magari il super appassionato continuerà a utilizzare ed è giusto che sia così ma nella videoprocessione domestica dell'uomo no assolutamente no ok andiamo alla prossima un proiettore ad attica ultracorta in generale la possibilità di variare la dimensione proiettata o questo diventa variabile solo posizionando il proiettore più avanti e più indietro rispetto allo schermo allora il Sony quello il costo quello bello da 10.000 euro nativo 4k ha uno zoom ma tipo del 2% cioè ha uno zoom siccome il prodotto è insomma è anche quello utilizzato all'interno di un mobile con un altro codice vi diventa difficile spostare il proiettore e quindi c'è un sistema di gestione dell'ottica e se no no probabilmente anche nel settore business c'è un'ottica a tiro ultracorto con un micro zoom ma serve solo per come aiuto nelle situazioni di installazione più complicate in linea di massima no in linea di massima si decidono le dimensioni muovendo il proiettore ma di pochissimi centimetri perché ripeto il tiro è così corto che bastano pochi centimetri per aumentare una decina di pollici la diagonale dell'immagine in alcuni casi come nel proiettore Epson credo c'è scritto che c'è uno zoom ma in realtà è uno zoom elettronico quindi attenzione è un digitale si è uno zoom si digitale dico bene Fulvio? si si poi hanno anche sui nostri proiettori nella regolazione della messa a fuoco sembra essere quasi uno zoom in effetti alcuni proiettori quando quando tu vai lì per metterli a fuoco vedi che l'immagine effettivamente cambia dimensione quindi sarà una sorta di 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 spostamento minimo della lente che lo fa apparire come uno zoom attenzione no quello non è uno zoom le considerazioni sulle dimensioni fanno fatte con l'immagine perfettamente a fuoco quindi è chiaro che tu quando sfochi l'immagine stai no non è uno zoom quello l'immagine perfettamente a fuoco ha solo una posizione noi sui nostri proiettori business anche noi abbiamo una micro regolazione c'è addirittura un lens shift sul sui proiettori dell'ottica ultracorta che però stiamo parlando di un 3% quindi ti permette veramente soltanto di fare quello che dicevi tu le micro regolazioni sul v6miva in questo caso noi abbiamo il keystone verticale che serve a come dire a mettere in bolla il proiettore nel caso in cui il mobile non si imbolla oppure si abbiano problemi con la parete ma non è l'unica correzione che si può effettuare obiettivamente sul proiettore poi passiamo alla prossima ho un mobile alto 45 cm largo 180 nel mio caso esattamente al centro diffusore centrale dove collocherei dunque il proiettore a tiraggio ultracorto beh questo abbiamo già risposto prima giusto? si una buona idea anche ci sono ci sono varie soluzioni però se è alto 45 cm non è non è un mobile basso già abbastanza alto però allora prima di tutto è possibile pure fare non so un castello che da mettere sopra al canale centrale e sopra al canale centrale mettere il proiettore per esempio la notizia che manca in questo caso è esatto non ho capito quanto è alto il soffitto perché poi esatto ho capito perché bisogna capire quali sono le dimensioni compatibili con lo spazio che rimane tra il soffitto e la base l'altezza della base dell'immagine e anche un'altra cosa sarebbe anche interessante capire quanto è profondo questo mobile magari è possibile mettere il canale centrale davanti al proiettore o subito di lato mi è arrivato un messaggio da un amico che ovviamente mi diceva sì ciò non toglie la possibilità di utilizzare come canale centrale due piccoli diffusori ai lati del videoproiettore OST vedo che quello che ha posto la domanda tagliamo il centrale non credo che avremo la risposta insomma la la risposta da parte sua però nel caso poi ci ci riscriverà no ma comunque è alto cioè già il mobile è abbastanza alto è 40 il mobile sembrava abbastanza alto secondo me lo deve mettere o lo mette a terra sul piedistallino tipico dei centrali più ingombranti immagino abbia un centrale abbastanza grande se no lo schermo da 100 pollici ha un'altezza di circa 124 di un metro e 24 esatto allora se il mobile se il mobile è alto da terra 45 centimetri se aggiungiamo i 40 centimetri di offset quindi già stiamo a 85 85 più 123 arrivi a 2 metri 2 metri 60 metri 80 tranquillamente c'è spazio per il centrale non è non c'è spazio allora andiamo al prossimo mi ha colpito no vai vai pure Fulio no se lo c'è a meno che non metti il centrale sono due metri non tre metri no no non ho detto però 45 centimetri il mobile 45 centimetri il mobile 40 centimetri l'offset 123 centimetri e fa 2 metri e 08 10 quindi se il soffitto sta a 2 metri 80 abbiamo ancora un po' di margine certo io sconsiglio comunque di arrivare al pelo del soffitto anche perché poi come guardi l'immagine è troppo alta cioè la condizione ideale è che il punto centrale dell'immagine proiettata sia più o meno entro 5 10 gradi rispetto all'altezza degli occhi certo poi io continuo ad andare avanti con le domande perché vedo che sono tutti collegati dall'inizio sabato sera per uscire andare in giro quindi figurati non so dove mi ha colpito il fatto che nelle scelte possibili dei sondaggi abbiate inserito il basso rumore di funzionamento è in effetti ottimizzato al punto da far divenire il videoproiettore del tutto inudibile o comunque particolarmente silenzioso rispetto a soluzioni diverse beh allora intanto il V7 in questo caso ha una rumorosità compresa tra i 32 dB e i 37 più o meno quello che fa la differenza è l'installazione giusto Emilio? sì allora se io installo il proiettore su un mobile in una stanza spoglia piccola con pareti riflettenti anche quei 36 dB magari è una media io poi dovrei analizzare se c'è un picco o una frequenza particolare potrebbe anche essere udibile se c'è il silenzio assoluto però il discorso è che a parità di condizioni se quelle ventole sono sulla mia testa ho un risultato se quelle ventole sono a tre metri di distanza sicuramente avrò un risultato differente però non è inudibile assolutamente dovrebbe essere al di sotto dei 20 dB per essere inudibile cosa che sarebbe anche possibile farlo bisognerebbe fare un prodotto con un volume almeno tre volte tanto quello di un proiettore normale quindi mettere le ventole all'interno di un hash box di una marmitta in modo che non si sentano cosa improbabile il problema è l'installazione cioè se tu ce lo hai installato all'interno di un mobile effettivamente potrebbe diventare molto silenzioso potrebbe diventare se invece qui c'è un'installazione capace esatto installatore in campo c'è capitato c'è capitato già un cliente come uno di Roma quello via Boezio come che si chiama un cassetto dentro un cassetto che poi viene estratto e immagino che il rumore rimanga un po' più compresso all'interno fra il mobile e la parete piuttosto che se è messo sopra quindi probabilmente in installazioni fatte ad hoc potrebbe risultare ancora più silenzioso ad oggi per come li ho provati io onestamente la rumorosità è simile a un proiettore di fascia media tipo un Epson 9004 o un BenQ 5007 più o meno il rumore percepito è simile non è non è tanto diverso poi è chiaro se hai un salone come dice Emilio e sei a 5 metri la differenza sicuramente la fa certo che quello lì per incassarlo nel mobile quello che bisogna fare ovviamente è assicurarsi che il videoproiettore abbia le uscite dell'aria correttamente coibentate per evitare che si surriscaldi certo certo ma generalmente si fa sul mobile con cassetta estraibile quindi poi la distanza rimane rimane dalla dalla parere comunque da da vedere studieremo qualcosa continuo a vedere che arrivano domande anche se non riesco a vederle perché c'ho solo una riga di testo disponibile continuano ad arrivare adesso poi ci arriviamo ogni quante ore è necessario ricalibrare un videoproiettore laser fosfori rispetto ad un classico videoproiettore con lampada scarica in questo caso non ti so rispondere perché fino ad ora non ho avuto un proiettore laser fosfori per un numero di ore compatibile per darti una risposta però ti posso dire che un proiettore con lampada scarica io lo calibrerei ogni 300 400 ore perché sono una persona abbastanza ossessiva probabilmente un proiettore laser fosfori lo controllerei magari ogni 500 ore cosa che faremo cioè cominceremo a lasciare acceso il BenQ 5000 se vuoi ci sono tre alla Domus area di 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 questo è interessante vanno calibrati sicuramente mi dovresti fare prima una misura almeno del bilanciamento del bianco e dei colori principali a ore zero e poi ogni 500 ore per dare una risposta a una persona a una domanda al genere andiamo avanti può andare Fulvio con il suo colorimetro esatto la luminosità dichiarata di videoproiettoria all'ottica ultracorta tiene già conto dello scostamento dell'immagine rispetto all'asse i proiettori tradizionali installati non in asse che utilizzano il lens quanta luminosità perdono? allora qui c'è un grave problema di fondo allora il flusso luminoso se ci riferiamo all'idcm al documento alla bibbia delle misure fotometriche che è stata pubblicata dal SID Society vabbè non entriamo troppo nel dettaglio bisognerebbe misurare in un certo modo e cosa che noi facciamo ovviamente con gli strumenti giusti uno degli errori che si fa per esempio è utilizzare delle sonde che hanno una loro altezza se io metto la sonda che è alta 10 cm sto misurando il proiettore troppo vicino e quindi misurerò più lux e quindi la misura sarà troppo esagerata rispetto alla verità non solo ho letto anche recentemente di colleghi che addirittura orientano la sonda il sensore di correzione del coseno che fa parte dell'uximetro addirittura verso l'obiettivo un altro errore perché io vado a illuminare la superficie che invece è perfettamente parallela e quindi no il flusso luminoso è quello va misurato in quel modo il problema è un altro come si traduce quel flusso luminoso sulla superficie di proiezione rispetto al guadagno di quella superficie di proiezione ed è quello che vi diremo nell'ultima puntata ah il lens shift quanta luminosità perde il lens shift dipende ovviamente dalla qualità dell'ottica in via di massima non si perde tantissimo il lens shift più che altro ti può dare una leggera vignettatura se l'ottica non è di elevata qualità ovvero immagina di solito l'obiettivo è in posizione wide quindi il proiettore è molto tiro corto di solito al centro è un po' più luminoso e ai bordi è un po' meno luminoso sia perché statisticamente l'ottica ha un po' di caduta di luce ai bordi sia perché magari lo schermo non è a guadagno unitario e quindi sugli angoli la luce arriva con un angolo di incidenza superiore e quindi anche lì scende un po' la luce quando muovi il lens shift probabilmente arrivi sul bordo dell'ottica e hai altri problemi non tanto la caduta di luce quanto per esempio le aberrazioni cromatiche la caduta di luce non tantissimo allora la prossima si riferisce probabilmente sempre al canale centrale altrimenti non si potrebbero usare per il canale centrale due diffusori uno in basso uno in alto in parallelo danno riprensione del suono dal centro assolutamente sì se ne parlava già tantissimo tempo fa con per esempio con Nicola D'Agostino che saluto se ci sente ma anche con sì assolutamente sì si può fare ed è appunto viene già fatto non solo nei cinema nei pochi cinema con il Samsung Onyx ma anche ho visto la stessa soluzione utilizzata anche in sale un theater di appassionati sì allora poi sono arrivate altre domande aggiungo un'altra cosa in alcuni prodotti home theater parlo di sintomplificatori o anche integrati Dolby Atmos ma anche non Dolby Atmos giusto per non far nomi sistemi che usano come canali effetti due canali in alto nella parete anteriore anteriore quando il canale centrale è molto basso è possibile alzare virtualmente la posizione del canale centrale utilizzando i canali effetti nei due sopra e anche per il Dolby Atmos per alcuni prodotti è possibile lo shift del canale centrale virtuale ok vedete il mio schermo credo giusto ok allora per calibrare un videoproiettore adottico ultracorta che proietta su schermo LR la sonda può essere rivolta perpendicolarmente allo schermo come nel caso dei proiettori classici oppure necessario adottare altri accorgimenti allora per i più malati di solito la sonda va orientata secondo l'angolo che c'è tra l'occhio dello spettatore e lo schermo quindi si cerca per la calibrazione non per la misura per la calibrazione ovviamente si cerca di adoperare questo stratagemma quindi non si mette la sonda perfettamente perpendicolare allo schermo ma si segue quello che è il punto di osservazione ovvero il vantage point poi una domanda invece sullo chassi di cui abbiamo risposto durante il tuo webinar però magari possiamo dare una risposta più completa anche a tutti gli altri partecipanti non è un controsenso lo chassi bianco non sarebbe sempre meglio nero per le riflessioni con lo schermo LR sì assolutamente sì è perfettamente ragione d'altra parte anche spesso pure il pavimento è chiaro il mobile è chiaro quindi però sì beh però abbiamo visto proprio provando alcuni effettivamente effettivamente la parte superiore dei proiettori a ottico oltracorta è veramente vicina allo schermo e si è notato proprio l'alone in corrispondenza della scocca superiore dei proiettori ora questo sia sulla superficie opaca o soltanto con la superficie lucida più superficie opaca perché la superficie opaca diffonde mentre paradossalmente la superficie lucida farebbe rimbalzare la luce da un'altra parte beh comunque il laccato bianco l'alone lo fa il il benchiu ha quel sportello che scorre ed è grigio metallizzato qualche qualche cosa non l'ho misurato realmente l'ho notato più su un prodotto laccato bianco sullo sportello che scorre te lo devo verificare perché è una cosa che non si nota in maniera non è che allora sullo sportello io non l'ho notato assolutamente ma lo posso anche verificare strumentalmente no invece l'ho notato su proiettori bianchi ma non lucidi bianchi laccati ma laccati opachi noi abbiamo solo il 60 50 quindi il prodotto oscuro non il prodotto chiaro però il coperno è anche quello è sempre grigio ed è quella la parte sotto che sta pure attaccata al telo lo verifichiamo però comunque il problema della riflessione di quello che c'è sulla base anche il pavimento è comunque tra virgolette un problema per gli schermi LR anche perché è più esasperato tra virgolette la perdita di contrasto rispetto alle condizioni ideali per esempio noi abbiamo messo un tappeto nero quando abbiamo fatto i primi test con lo schermo LR quando abbiamo appoggiato il proiettore a pavimento cosa che non è proprio semplicissima perché il tappeto non è una superficie solida e compatta e magari qualche problema in più per il setup e la geometria lo dà sì il problema nello specifico mentre il pavimento può in maniera omogenea illuminare la superficie invece un qualcosa che è veramente vicino può creare in una sorta di alone questa è la preoccupazione probabilmente dell'utente che ha scritto quindi un conto è che hai un proiettore largo come tutto lo schermo un conto è che ce l'hai però lo noteremo con più attenzione nel living non te ne accorgi cioè nell'utilizzo living te ne accorgi in un ambiente completamente scuro dove ogni minima cosa si nota tra l'altro proprio perché la risposta maggiormente data durante i pool è stata l'integrazione con l'ambiente living noi benché ho voluto creare due modelli proprio perché alcuni hanno la tendenza verso il bianco il grigio mentre altri hanno in casa un living più scuro quindi l'avere più scelta in tal senso poi credete che nei prossimi anni i diversi produttori si concentreranno in maniera prevalente su ottica ultracorta rispetto alla tipologia tradizionale la risposta di BenQ è no però sentiamo Emilio che ha un parere un pochino più oggettivo allora non ne ho idea ovvero è un po' presto per fare considerazioni perché la domanda semmai è ancora più emergenziale cioè queste aziende specializzate in videoprezione soffriranno sempre di più la concorrenza con i televisori con immagini più grandi per esempio questo viene visto da molti analisti questo dell'ondata di proiettori ost come una possibile soluzione al continuare a lavorare in questo settore io non ho non ho idea se funzionerà ma sicuramente so che la videoprezione quella classica non finirà perché non è che si può salire all'infinito con le dimensioni dei tv e dei display perché arrivano altri altri problemi come quello appunto della logistica del portarlo del farlo entrare un televisore da 100 pollici all'interno di un appartamento invece per lo schermo e per il proiettore è una cosa molto diversa molti hanno detto ah ma tanto arriveranno gli schermi arrodurrabili sì al prezzo che abbiamo visto quindi neanche quella è una soluzione per non li abbiamo visti uscire poi li abbiamo visti in fiera ma poi però voglio dire adesso sono quotati al listino lo puoi comprare ma a un prezzo io che ero piuttosto ero il più scettico di tutti per quanto riguarda la capacità di penetrazione di uno schermo arrotolabile nel mercato mainstream sono stato addirittura superato perché il prezzo è veramente molto elevato e no volevo aggiungere che invece il diciamo con il sistema di illuminamento laser bilaser trilaser eccetera potrebbe invece salire il flusso luminoso dei prodotti e quindi potrebbe esserci un ulteriore slancio per quanto riguarda la videopressione tradizionale anche UST per fare immagini a parità dimensione sempre più luminose e più grandi comunque io ho visto la reazione dei clienti di fronte a uno schermo LR con il proiettore ottico ultracorta e rimangono comunque sbalorditi quindi effettivamente il mercato a cui si va a rivolgere non è un mercato dei malati come dici tu giustamente Emidio ma è il mercato consumer quello dei televisori e quindi potrebbe effettivamente avere un'esplosione ora i prezzi attuali sono alti nel se parliamo del mercato consumer ma se parliamo comunque del mercato medio e nel momento in cui dovessero diventare dei prodotti consumer effettivamente i numeri potrebbero diventare molto elevati cioè minor margine ma numeri maggiori quello è cioè ad oggi non sono esplosi perché effettivamente esistono da anni questi proiettori cioè non è una cosa di oggi però l'attenzione di tutti i maggiori brand è loro i numeri ce li hanno molto più di noi quindi lo sanno bene quella che può essere la curva di crescita di determinati prodotti cioè prima erano due tre oggi cominciano a diventare un po' tutti quanti a buttarsi su questa cosa quindi evidentemente anche brand che avevano abbandonato il settore della videopressione come Samsung per esempio che era uscita tra anni adesso si rientrano esattamente quello è il discorso quindi leviamo la qualità massima che noi super appassionati ci aspettiamo ma ti garantisco che i clienti entrati in saletta acceso lo schermo hanno avuto esattamente la sensazione di una televisione ha voglia di dire sui forum no ma non c'è paragone e invece c'è perché ti ripeto l'utente medio si siede là davanti e rimane impressionato e senza nessun condizionamento da parte nostra perché noi non abbiamo vantaggi a vendere l'UST rispetto al tradizionale anzi forse è vero il contrario da un certo punto di vista però la reazione è proprio tipica si siedono là davanti accendi metti un filmato 4k di buona qualità e la resa che ottieni è sbalorditiva al buio è ottima in presenza di luce cosa che con un faretto puntato sopra con un proiettore normale e su una tela normale non puoi assolutamente fare cioè sparirebbe proprio l'immagine quindi non lo so io sono fiducioso secondo me rispetto a quello che ho visto per i clienti entrati in queste settimane dove abbiamo avuto la possibilità di avere appunto quasi tutti i marchi che sono presenti sul mercato dei proiettori ottico altra corta l'impressione è assolutamente positiva poi vediamo certo ad oggi l'ostacolo del prezzo comunque non è una cosa di poco conto stiamo parlando comunque di 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 un prezzo che non è mediamente alla portata di tutti ma di tutta quella fascia che invece spendeva 5.000 euro per un televisore OLED magari da 65 o 75 pollici oggi ha probabilmente una buona alternativa insomma come prodotto aggiungo che quello che mi aspetto da aziende come BenQ ma non tra qualche mese ma magari tra qualche anno perché visto il successo che ci sarà sicuramente di questo tipo di prodotti potrebbe essere una differenziazione maggiore ovvero prodotti magari di fascia un po' più economica con magari un'accuratezza cromatica diversa e dal costo molto più contenuto e magari vedere qualcosa di fascia un po' più alta perché per esempio sarebbe molto bello vedere nel settore consumer se fosse possibile e se i sistemi di illuminamento diventeranno insomma ancora più efficienti e più robusti vedere finalmente un progettore DLP a doppia modulazione per un rapporto di contrasto finalmente in linea con le aspettative sì Miglio io sto prendendo nota quindi già parlando un'altra linea poi sarà mio compito trasferire ai nostri al nostro ricerca e sviluppo le richieste che provengono dal mercato comunque una cosa volevo dire volevo collegarmi a quello che stava dicendo Fulvio prima sul fatto che appunto i clienti vengono i vostri clienti vengono direttamente in sala e rimangono sbalorditi dello schermo GR questa settimana dopo la prima puntata ho notato che su alcuni forum è uscita un po' la domanda se effettivamente questi schermi hanno una resa così importante e quello che mi sono sempre sentito ovviamente di rispondere a loro è andatelo a vedere perché secondo me dal video non si percepisce ma dal video direttamente sul posto c'è una profondità secondo me di colore che sicuramente apprezzi molto di più ecco sì 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 è assolutamente così ripeto chi è venuto l'ha scambiato per un televisore cioè quindi assolutamente sì secondo me il rapporto c'è e poi non dimentichiamoci che cento pollici non sono settantacinque pollici cioè c'è una differenza di percezione enorme adesso sui vari forum continuano a dire vabbè ma allora mi compro il televisore settantacinque oppure ottantacinque eh di fascia bassa mh io dico che fa la differenza poi è chiaro che se tu ti metti a vedere ecco l'altro giorno mi è capitato uno che diceva ma io mi faccio un ottimo sessantacinque pollici ho detto hai ragione se lo vedi da un metro è perfetto però ora vedere un tizio che si spara un metro dal televisore eh la vedo difficile poi Emilio ci ha insegnato più volte che che la distanza comunque di percezione fa la differenza non è solo il rapporto matematico penso di di distanza è proprio che il cervello percepisce di essere troppo attaccato a a un display questo è quindi non lo so secondo me avranno il loro spazio poi lo vedremo quest'anno insomma questo è l'anno in cui tutti tutti i brand hanno creato il loro prodotto di sicuro si vedrà come si muoverà il mercato vabbè ehm visto che mi ha di là aggiungo uno schermo da 75 pollici ha una superficie di circa eh non so tipo 1,5 1,6 metri quadrati mentre un 100 pollici ha quasi 2,8 metri quadrati cioè quasi il doppio come superficie esatto allora ho un proiettore optoma ottica ultracorta con rapporto di tiro 0,49 esistono schermi LR adatti o non ne vale la pena? mh no gli schermi LR specifici per i proiettori OST consentono un funzionamento ottimale al massimo 0,3 0,35 0,5 e un po' oltre ok si funziona funziona ancora però forse stiamo già un po' più al limite per giustificare la spesa comunque uno schermi LR costa 1500 euro un 100 pollici di cosa il proiettore optoma sarà un full HD immagino 0,49 probabilmente un full HD di fascia non non molto alta quindi la proporzione 0,49 non si può usare la LR classico per i proiettori a tiro lungo neanche la LR per gli UST è un po' al limite quindi sta un po' a metà prossima domanda lo schermo LR in unione con questo videoproiettore altricoltra corta dovrebbe garantire a questa copiata una buona reiezione delle luci diversa da quella di proiezione è addirittura possibile lasciare qualche luce laterale accesa nell'ambiente di visione ad esempio un soggiorno che consentirebbe una migliore fruizione dell'oggetto purché non direttamente incidente sullo schermo allora sì certamente sì potete anche vedere lo su AV Magazine le ultime recensioni che abbiamo fatto per esempio c'è lo schermo Vivid Storm che è proprio uno schermo LR specifico per prodotti UST di tipo motorizzato c'è un video faccio proprio vedere con la luce accesa la luce spenta che cosa succede e anche con qualche misura però ecco la luce di lato ok ma l'importante non è da da quale direzione sul piano orizzontale arriva la luce ma da quale direzione sul piano verticale cioè più è alto più arriva dall'alto e meglio funziona lo schermo LR sì allora poi ho un'ultima domanda poi direi che le altre possiamo rimandarle a sabato prossimo perché alcune non erano legate ai proiettori ottica ultracorta i sintonizzatori tv e o stat per quei proiettori ottica ultracorta dei quali ne sono dotati hanno una qualità paragonabile a quelli utilizzati nei tv tradizionali o sarebbe comunque consigliabile un sintonizzatore esterno allora l'esperienza che ho avuto è con per esempio il prodotto UST della Hisense un doppio sintonizzatore di VBT e di VBS ed era assolutamente sovrapponibile a quello di un televisore in quel caso addirittura pure con lo slot per il common interface certificazione tvsat non invece non so il Samsung che qualità però forse qualcosa di più ci può dire Fulvio beh no perché ancora è prototipo quindi non te lo dirò mai e comunque no è ancora la versione che arriverà in Italia è ancora in via di definizione quindi non so onestamente non so nemmeno se questi che ho ricevuto hanno funzionano meno ok esatto non non li ho collegati di sicuro il sistema operativo è esattamente identico a quello di un televisore quindi immagino che avrà un sintonizzatore tv identico a quello dei televisori potremmo fare questa domanda la prossima volta nel prossimo webinar quanti i nostri partecipanti collegherebbero un dispositivo esterno o utilizzerebbero il dispositivo dei proiettori perché noi come benché uno l'abbiamo messo esatto quanto è importante questa funzione abbiamo ritenuto che comunque la fascia di utenti che approcciano questo tipo di prodotto abbiano un box esterno un sintonizzatore esterno un sintonizzatore uno skybox sicuramente un player esterno però potrebbe esserci una fascia di mercato che sicuramente dovremmo approcciare magari nel prossimo anno ecco allora io se voi siete d'accordo terminerei qua il nostro webinar ok abbiamo risposto a quasi tutte le domande siamo ancora ci sono ancora molti partecipanti all'interno della nostra sessione dimmi ci vogliono bene Emidio le batterie delle telecamere sono ancora le mie Panasonic GH sono infinite sono straordinarie allora questa principale è una GH4 e l'altra quest'altra è una andata l'altra andata sì GH5S è finita caricata due ore anzi più di due ore perché noi in realtà siamo collegati alle 5-20 quindi le camere sono accese da due ore allora io ricordo che prossima settimana abbiamo la terza puntata in cui presenteremo il B6050 sabato 28 invece la calibrazione la webinar dedicato alla calibrazione da Hi-Fi di Prinzio vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social per avere il link a cui registrarsi e vi ricordo che adesso appena termino il webinar ci sarà il sondaggio a cui potete rispondere io ringrazio Emilio Frattaroli e ringrazio Fulvio per la simpatica chiacchierata di ormai un'ora no abbiamo fatto due ore abbiamo fatto abbiamo fatto due ore e piene mi ha sforato le due ore io vado a fare una notata bravo e io vado a casa a mangiare invece grazie mille ragazzi ciao a tutti che è successo grazie a tutti Grazie a tutti.